Bentornati all'ascolto dei miei audio in seguito alle dichiarazioni di Fedez durante il concerto del primo di maggio. Contro i leghisti non si è fatta attendere la voce di Salvini che, ospite da Barbara D'Urso, ha detto e ribadito più volte che il diritto alla vita e all'amore sono sacri e non si discusano. Per lui anche il diritto di un bimbo però di nascere da una mamma e un papà è sacro e il solo pensiero dell'utero in affitto o della donna pensata come oggetto lo fanno rabbrividire. E così, come da padre, continua ancora Salvini dicendo che non condivide a bimbi di sei anni venga proposta in classe l'ideologia gender o si viesino giochi, canti e favole perché offenderebbero qualcuno. Dice di non scherzare, che la libertà deve essere sutilata, ma non può imporre per legge di zittire o processare chi crede che la famiglia, come anche la Costituzione prevede, sia la cellula, il nucleo, il cuore, il passato, il presente e il futuro del mondo. Il coraggio di Fedez al concertone dà voce a tutte quelle persone che ancora subiscono violenze e discriminazioni per ciò che sono. Il Senato dovrebbe avere lo stesso coraggio ad approvare subito una legge per cui l'Italia non può più attendere. E questo lo diciamo anche noi perché è assolutamente non giusto, quindi discriminatorio, dover giudicare le persone in base ai loro interessi, alle loro naturali tendenze anche per quanto riguardano i rapporti sessuali. Pertanto aspettiamo che il nostro Stato intervenga anche in questo senso per poter tutelare tutti come individui e come è giusto che sia. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a lasciare un like se trovate contenuti interessanti e ad iscrivervi al canale. Bene, vi saluto, alla prossima!